Eccoci qua, in un setting particolarissimo in cui continuare il discorso che abbiamo introdotto sullo stoicismo leggendo il manuale di Epiteto, alcuni importanti passi dello stesso. Abbiamo visto che Epiteto così ci suggerisce di essere indipendenti, di esercitare la massima indipendenza, la massima libertà senza dipendere né dagli altri, né dagli dèi, né dalle circostanze o dalla fortuna. Questo suggerimento per molti aspetti potrebbe essere paragonato a quello che ci danno gli epicurei. Anche gli epicurei ci dicono di cercare di evitare di dare troppa importanza alla fortuna, ma rimanere centrati su se stessi, ma il fondamento in base al quale gli stoici, come Epiteto, suggeriscono quello che suggeriscono è diverso da quello degli epicurei. Come abbiamo visto, per gli stoici tutto ha un significato, tutto si riconduce al logos. L'idea è suggerita anche da Aristotele, le cose sembrano avere uno scopo, un fine, un ordine, solo che mentre per Aristotele non tutto è così perfettamente ordinato, ma si danno situazioni accidentali che in qualche modo non rispettano i fini a cui la natura tende. Invece per gli stoici tutto è assolutamente necessario, ogni singolo piccolo dettaglio di ciò che accade è in qualche modo voluto, programmato per così dire dalla natura o da Dio. Tutto è assolutamente necessario per capire perché questo e come questo sia possibile si può naturalmente fare riferimento anche alla logica stoica, che è un po' diversa da quella aristotelica e costituisce simbolicamente il guscio di quell'uovo costituito dallo stoicismo. In cosa consiste questa logica degli stoici? Questa logica degli stoici fondamentalmente consiste, diciamo così, in una logica di tipo proposizionale tale per cui, ad esempio, se A allora B, ma A dunque B, se A allora B non B dunque non A. Insomma, è costituito una serie di ragionamenti cosiddetti anapodittici, dimostrativi, che sono assolutamente vincolanti. Non si riferiscono a sostanze e loro qualità o predicati, ma si riferiscono a situazioni comprese nella loro globalità. La cellula minima della logica storica è la proposizione, non il predicato o il soggetto. Tuttavia, al di là dell'aspetto formale di questa struttura, quello che non interessa è un'altra cosa. Dicevo un'altra cosa. Che cos'è quello che non interessa? Supponiamo di avere due proposizioni di questo genere. Se oggi il cielo è a pecorelle, domani pioverà. Questa proposizione può essere ovvero falsa. Se è vera, è vera oggi. Non sarà vera domani, è vera oggi. Non è possibile che se il cielo oggi è a pecorelle, domani pioverà e non pioverà. O pioverà o non pioverà. Non è possibile che domani accadano due cose diverse e opposte, può credere una sola. Quindi non esiste più di un futuro. Esiste un unico futuro per ogni presente. Esiste un'unica linea del tempo. E anche se noi non lo conosciamo, il futuro è già tutto in qualche modo programmato nel presente. Già tutto in qualche modo implicito nel presente. Non c'è una possibilità di avere più di un futuro. Perché non è possibile che domani pioverà e non pioverà. Non è possibile che un quadrato sia un quadrato e un triangolo. Quindi tutto ciò che accade è in qualche maniera necessario. Non potrebbe accadere diversamente da come accade. Questa idea che tutto è necessario, che si chiama determinismo, e verrà ripresa poi dal protestantesimo, dalla concezione scientifica moderna, cosiddetta nella versione del meccanicismo cartesiano, era già implicita nello stoicismo. Cioè l'idea che tutto accade in modo necessario. Ma gli storici pensano che ciò che accade necessariamente è in qualche modo predestinato da Dio, dal Logos. Ha anche un significato. La dottrina della predestinazione cristiana è molto molto simile alla dottrina del destino storico. Heimar Mene si chiama il concetto di destino nello stoicismo. Quindi passando dalla logica alla fisica, secondo la prospettiva stoica, tutto è assolutamente determinato, tutto è necessario. Notate che le filosofie enelistiche distinguono tra tre grandi branche, la logica, la fisica e l'etica. Anche l'epicurismo distingue queste tre grandi branche. Sono le tipiche articolazioni delle filosofie tipo ellenistico. La fisica assorbe in sé quella che in Aristotele è l'ontologia, la filosofia prima, cioè quella che noi chiamiamo comunemente metafisica. Comunque sia, questa concezione degli stoici, in campo fisico è la seguente. Tutto è assolutamente determinato, tutto è assolutamente già previsto. Quindi, tornando alla concezione di epiteto, alle indicazioni anche etiche, non mi devo dispiacere di ciò che accade, perché è in qualche modo voluto da Dio. E se accade, anche se mi sfugge, ha un significato che mi sfugge. Questo l'abbiamo già in qualche modo incontrato. Qual è allora lo scopo della nostra vita? Esercitare la virtù per conseguire la felicità. In cosa consiste la virtù? Nella conoscenza, come già in Socrate, la scienza del bene è la sola virtù supera. Tutte le virtù si riconducono a una sola virtù, la conoscenza. E conoscendo soprattutto la dottrina stoica, cioè che tutto è necessario, non ci si può lamentare di alcun che. Ci si consola di ogni cosa. Ogni cosa che accade ha un suo significato, anche se ci sfugge. Quindi questa conoscenza fondamentale consente di conseguire l'obiettivo fondamentale della imperturbabilità o atarassia e anche impassibilità o apatia, che appunto non significa, come intenderemo noi oggi, l'essere apatici, cioè completamente inebetiti o passivi in senso negativo, ma significa non soffrire, non essere dominati dalle passioni. È una cosa che va approfondita. Gli storici, come abbiamo visto anche nel caso di Epiteto, considerano che è sempre meglio far seguire dalla ragione piuttosto che dalle passioni. La rabbia, l'ira nei confronti di chi ci offende, la gelosia, lo stesso amore, sono subdoli perché ci portano a fare cose che razionalmente potremmo non fare. È vero, gli animali sono mossi da istinti, ormai. Il concetto che è l'istinto guida la vita animale e anche umana è nato proprio con gli storici. Il concetto di istinto è un concetto di origine storica, deriva dal greco horme, che significa spinta. Siamo tutti mossi da istinti, da spinte, che hanno uno scopo, una funzione. La natura c'è l'altro degli istinti per sopravvivere, gli istinti di nutrirci, di riprodurci. Sono istinti fondamentali. Ma non possiamo seguire solo gli istinti perché questi possono anche farci commettere errori. Generalmente gli istinti, se vengono seguiti massivamente, portano ai vizi, i vizi della gola, della lussuria, per fare alcuni esempi, perché desidero riprodurmi, desidero nutrirmi e finisco per cadere in questi vizi, perché il mio corpo gode di piaceri che alla lunga mi portano alla distruzione, come sapevano anche gli epicurei. Ecco dunque che gli istinti vanno sì, in qualche modo, soddisfatti, ma, così come i desideri, ma sulla base della ragione. La ragione che decide ciò che di volta in volta è meglio o peggio. Quindi l'istinto mi suggerisce qualcosa, ma chi decide ha gli ultimi basi della ragione. Mentre l'istinto può sbagliare, la ragione, se viene applicata in maniera corretta, non sbaglia mai. Ecco dunque che le passioni non sono attendibili. Attendibile solo alla ragione. è vero che le passioni hanno una motivazione che, in fondo, è razionale, un logos inconscio, logos-alogos, dicono gli storici, ma questa ragione implicita, che si trova nelle animali e nelle piante, noi la possiamo esplicitare e verificare, perché la ragione cosciente è in grado di controllare gli istinti. Quindi tutto deve essere fatto secondo ragione. Agire secondo natura per l'uomo è agire secondo ragione. La natura è di per sé providenziale, ma in noi si manifesta come ragione. Quindi la dottrina fondamentale di Seneca, Epiteto, Marco Aurelio, secondo la quale dobbiamo agire secondo natura, significa agire secondo ragione per quanto riguarda l'uomo. Abbiamo quindi parlato degli istinti, delle passioni e quindi la virtù. La virtù consiste nell'esercitarsi ad agire secondo ragione. Non è una cosa naturale, o meglio, è naturale ma non è così semplice, perché richiede esercizio, richiede una forma di autocontrollo in cratria. Una volta che abbiamo esercizato questo autocontrollo possiamo vivere in qualche modo felici. La felicità consiste nell'esercitare la virtù. Qui lo storico distingue un po' questo aspetto, lo articola in modo un po' diverso da come lo fa l'epicureo. Per l'epicureo è fondamentale non soffrire. Se non soffro sono felice perché non sono turbato e se soffro ho delle strategie per soffrire il meno possibile. Ma l'epicureo non considera ciò per cui noi siamo nati. Invece per lo storico c'è uno di noi dei talenti, delle virtù, virtù specifiche, speciali, per cui per esempio qualcuno è più abile a suonare, chi a cantare, chi a esercitare l'arte politica. Ognuno è nato con dei talenti, con delle particolari attitudini. Ecco dunque dobbiamo esercitarle. Per esempio supponiamo che io sia molto bravo a suonare la cetra, oggi diremmo il violino. Tuttavia questo tipo di attività mi crea fatica, mi crea stress, mi preoccupo perché devo fare dei concerti, perché devo esibirmi davanti a un pubblico. Sarei molto più sereno se rinunciassi a questa mia attività e mi riposassi. Certo dal punto di vista epicureo potrebbe essere che dedicarsi ad un'attività come suonare la cetra che è impegnativa procuri più dolore che piacere e dovrei quindi rinunciare ad essa. Dal punto di vista di stoico però questo non ha senso perché se io ho questa virtù, questo talento innato, sono capace di suonare molto bene la cetra, sarebbe uno spreco dal punto di vista dell'ordine cosmico che io non esercitassi questa virtù. Dunque è bene che io eserciti questa virtù, sarò felice, realizzato, diremmo noi, se faccio ciò per cui sono nato, ciò per cui la mia natura mi porta. Ecco dunque che non è la ricerca del piacere come illusione della sofferenza nell'obiettivo ma una felicità che si consegue realizzando la propria virtù, ciò per cui siamo nati. Qualunque essa sia, anche se dovessimo per questo, a pur di esercitare questa virtù, sacrificare noi stessi come è stato il caso di Socrate o come è stato il caso dei grandi filosofi come Zenone, il quale pur di non soddisfare gli appetiti del tiranno fu disposto a venire bruciato vivo nel famigerato toro di Falaride. Si può anche morire pur di poter essere se stessi, perché la propria virtù è realizzare se stessi. Quindi la virtù non è un mezzo come Billy Puckrey per conseguire il piacere, ma è fine a se stessa. Se io realizzo la mia virtù, mi realizzo e non c'è altra felicità che è quella che consiste ad esercitare la mia virtù. Bisogna tener conto che dal punto di vista storico il cosmo, che come sapevano i pitagorici significa ordine, il mondo, cioè in quanto modo ordinato, un ordine in cui le cui parti sono tutte quante in qualche modo finalizzate. Pensate appunto all'armonia che sussiste in natura tra le api e i fiori o al modo in cui sono organizzati i nostri organi. Immaginiamo di essere parti di un organismo più grande che la città, la polis o l'intero universo. Ognuno è nato con una funzione, come le cellule del nostro corpo, diremmo noi, gli storici non conoscevano le cellule. Ecco dunque che dobbiamo realizzare la nostra funzione, capire perché siamo nati. E questo ci realizza pienamente. La virtù consiste a realizzare, fare la nostra parte, un grande gioco, un grande teatro dell'universo. Trovare la nostra parte e realizzarla. Non c'è altro da fare, a costi qualche costi. Ciò ci rende felici. Questa è la visione storica che presuppone ovviamente che ciascuno di noi abbia un ruolo, ci sia un significato nella nostra vita. Come vedete è una visione provvidenzialistica, finalistica, diversa da quella epicurea. Non è tutto casuale, come penso di epicurei, ma tutto ha un senso, un significato. Tutto è destinale. Tutto è legato ad un destino che dobbiamo riuscire a interpretare. Uno potrebbe dire, ma se tutto è destino, allora a quel punto, come dicono gli epicurei, tanto vale non fare nulla, perché tanto quello che accade è già prescritto. Sì, ma noi non sappiamo che cosa accade. Quindi, in un certo senso, anche se tutto è già deciso, noi non sappiamo che cosa è deciso. E dunque ci comportiamo come se non fosse deciso. E ci comportiamo cercando di perseguire quella libertà che non è nel libro arbitrio, perché in effetti tutto è già deciso, ma consiste nella emancipazione dei vizi, emancipazione di tutto quello che ci travia da ciò che è il nostro compito, a cui siamo predestinati. Ecco dunque che la felicità consiste nel realizzare il nostro dovere. Il dovere qui è una parola non molto buona, come si traduce il greco katekon e il latino officium, il proprio ufficio, la propria funzione. Quindi gli storici esaltano il dovere rispetto al piacere, ma non inteso come un dovere che ci viene imposto e che deve essere fatto perché è giusto farlo, perché una legge ce lo impone o perché gli altri ce lo chiedono. No, il nostro dovere è realizzare noi stessi. È un compito che abbiamo fin da quando siamo nati, quindi è in realtà ciò che è conveniente a noi fare. Katekon più che dovere significa letteralmente ciò che conviene, ciò che è opportuno che noi facciamo per realizzare noi stessi, per svolgere la nostra parte nel grande gioco del cosmo. Ecco questo è un po' il senso profondo della dottrina dello stoicismo. Con questo io vi saluto da questo strano teatro, da questo strano setting. Ci vediamo nel prossimo incontro. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.